Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Sivio e questo è il nuovo video di Cuboid Oppost bene, ho deciso a fine di prendere il polverizzatore perché volevo fare le quest se no non riuscivo ad andare avanti, ho fatto anche questo per cercare di fare il fondere dell'industria però mi manca un pezzo e quindi niente, ho superato l'ultimo pezzo d'oro, pazienza va bene, facciamo l'autosiv ho dato le orecchie, per adesso non penso di usarlo, adesso lo metterò qua sì, in effetti posso fare senza cavi, uno sopra e uno sotto ma adesso vedo come voglio fare, non lo so perché questo dobbiamo smontarla e vedrò poi, e quindi abbiamo fatto che questa sono abbastanza soddisfatto perché abbiamo finito anche questo task non mi darà ricompensi particolari o pazienza, vabbè, faremo e andiamo al terzo, salve, andiamo a flaggare, benissimo, getting creative e iniziamo piano piano, così riusciamo forse a capirci di più prendo un secchio d'acqua che dovrei già avere, esatto, perfetto, a posto poi, quindi dunque, apparentemente tu puoi scusate mi è cresciato il pack adesso l'ho riavviato vediamo se c'ha qualche, comunque scusate mi è cresciato allora, speriamo che mi abbia salvato non mi ricordo neanche che cazzo sto facendo allora, diamo un po' al getting starter qui allora, io direi di iniziare a fare prima tutti i video di vedere iniziare a fare tutto quello che ci chiede e poi mi informo su cosa come va fatto questa cosa perché sennò è un casino allora, per fare il nickel plate nickel plate o con lo smosher ed è fantastico o con le ingine di rammer o le immersive da tanto che non le faccio ma ricordo neanche più dovevi guardare per fare i macchinari comunque l'avevo spiegata tutta nella progettosa pezzo per pezzo e piatto di nickel non penso serve a nient'altro va bene, dai, prendo lo smosher ce l'ho e mi serve il nickel quindi, insomma, siamo già a un buon punto, no? nickel, nickel, nickel adesso trovate questo è nickel perfetto, abbiamo già l'ingotto così siamo a posto lo smosher è qua e tanti sono li ho fatti tutti e tanti saluti ok e questo è uno poi questo lo togliamo che l'ho fatto questo non riesco a farlo adesso e poi andiamo avanti ok questo mi manca questo per fare questo beh, è facile lega di andesite che ce l'abbiamo con questo e siamo a postolo poi dovrei avere giunto qua già a posto vai così mi spiegherai cosa serve ok puoi fare dopo mi fanno direttamente se non stavo a leggere ci metti 30 anni chiave inglese chiave inglese o serve per costruire o non lo so cosa potrebbe servire mai the branch ah la branch è proprio la branch può essere usata per ruotare disassemblare e configurare i blocchi creati usualmente usata decisivamente note questa ok posso vedere va bene e facciamola cosa vuoi per fare questo o salve quindi questo oltre ah il bastone è meno malo perché mi ero spaventato che voleva delle cose astruse astrusamente astruse ok questo qui con i bottoni beh questo è facile facciamo un po' adesso tanto non conto perché tanto se conto succede sempre una cosa brutta c'è anche sbaglio sempre quindi insomma sì e questa è fatta e questa è fatta ok quindi torniamo sia questo che questo e siamo a posto poi eh tata salafassa occhiai di ingegnere ingegnere google letti informazioni ok cosa fa questi google un paio di occhiali per migliorare la tua visione con utili informazioni cinetiche quando indossi mostra gli indicatori colorati corrispondenti al livello di velocità di un componente cinetico sarà una cosa interessante il glass quindi abbiamo tutto quindi proviamo a farlo ovviamente non l'ho selezionato quindi insomma sì vediamo un po' tacchete e tacchete fammelo per picciore cosa manca la stringa la cordicella che abbiamo che non mi ricordo dove l'ho messa cordicella sono sicuro che fosse qua ero abbastanza sicuro forse l'ho messo qua no adesso la troverò perché devo mettere ancora a posto però già ho migliorato insomma che senso manca poca roba eccola cordicella vedete che insomma ci voleva tanta roba bisogna lasciarlo a farla ok ci avevo sbagliato sbaglio già strade qua figuriamoci poi come andrà a finire dopo ok questa la mettiamo nel bubble dove cacchierola va non lo so se devo essere sincero dice che una volta indossato ah la devo mettere qua che cosa brutta mi togli tanta armatura lo sai vabbè adesso non devo andare a combattere quindi sembrava un bubble ah forse mi sono sbagliato ok via poi google ok cos'altro vuoi vuoi che faccia questo il casing che mi va bene perché comunque abbiamo legno della giungla insomma legno normale andiamo a farlo ovviamente l'ho fatto ma questo è un puntiblocco sicuro tanto ci pioverà sicuramente andesite casting può essere usato per fare altre cose quindi sono multiblocchi ce ne vorranno un fumo sicuramente vabbè poi shaft la staffa labbro ok vai fammelo scusate fammelo tutto eccolo qua anche questa è andata poi sarà divertente a fare sto coso divertente sembra difficile per la carità però forse è meglio che mi guardi un video poi cosa vuoi vuoi questo che si fa così ok andiamo a fare anche questo questo togliamo e siamo a postolo vai fammi questo grazie perfetto ottimo e adesso questo può essere dopo ci guarderò vi dirò poi ci va questo va bene mi fa piaciore perfettico ma sono sicuro che è facile solo che non avendolo mai visto mi spavento un attico può succedere è una cosa normale io i bottoni li avevo ovviamente ho detto li tolgo perché cosa mi serviranno ancora i bottoni cosa servono i bottoni servono per fare le cacate io ne ho fatte tante già ok vai vediamo un po' quante ce ne servono mi sono già dimenticato quattro quindi insomma altri tre perfetto vai facciamolo è andata benissimo tanto sicuramente ci serviva tanti quella roba e poi la rotella e una roba sbarone insomma vediamo ah non l'ho messa comunque si fa con questo dai cosa sarà mai sarà questo ovviamente le slab non le ho perché sarebbe di troppo una di queste grazie vai perfetto adesso facciamo così facciamo così e facciamo così e anche questa è andata poi cosa vuoi tutto questo porterà poi a questo adesso porta a questo ma questo ci vuole il ah me lo fai così ma che cosa esosa allora andiamo a prendere la redstone e poi altre cose che spero di avere oltre almeno facciamo tutte tanti saluti insomma sì no ok questo qua me lo fai così poi cos'altro volevi volevi questo che questo si fa così perfetto tutto chiaro stranamente quindi andiamo prima di questo no scusate di questo che si fa così perfetto poi andiamo di questo che si fa così perfetto andata non me l'hai segnato perché non me l'hai segnato ne vuole due ne vuole due com'è possibile una cosa del genere che ne voglia due eccoci qua e quindi così e siamo due ok poi cos'altro vuoi questo cosa manca non mi hai segnato questo sembra lo stronzo però insomma sì e che cazzo però insomma quando non segni ste cose sei proprio odioso ti ho detto ma nessuno ah perché io le ho messe qua e lui dice quel cazzo che io le segno ecco che bello mi serviranno ancora sti che speriamo e anche questa è andata poi cosa vuoi mamma mia che brutta cosa non vuoi che la metta dentro cioè è detta così brutta però insomma ne vuoi due ne vuoi uno ne vuoi due una ok e siamo a posto poi forse uno va in un verso l'altro va in un altro va a capire cosa voglia dire ci sarà scritto sicuramente ma poi guardo il video faccio prima e quindi a posto poi il macchinario dovrebbe essere quasi ultimato dovrebbe esserci questo l'ultimo pezzolo vediamo un po' togliamo questa roba qua questa roba qua e vediamo di fare l'ultimo pezzo che è così perfetto dovremmo aver fatto tutto il macchinario cioè i pezzi poi sicuramente ma che era qualcosa ah ma c'è ancora qualcos'altro mamma mia non finiamo più questo è lunga per fare un cazzo di macchinario però dai sembra interessante alla fine faremo l'iron brew oh ci porta a fare il ferro ma tutto questo è una cosa meravigliosa sono tanto contento non c'è un modo della create adesso vi informo e vi faccio sapere ok intanto facciamo anche questa che mi sono informato serve insomma sì ah e vediamo un po' allora vediamo come farlo con questi ce l'ho perfetto e adesso questo facciamo così e siamo a posto perfetto adesso vi dico cosa fare ok come qua mi sono un po' informato spero di non far cacate perché per me è una roba nuova quindi abbiate un po' di pazienza allora dobbiamo fare un meccanismo un multiblocco però non che si composta non che dimenti poi un disegno lo facciamo proprio noi e quindi andiamo a iniziare io proverei a vedere un po' se così riesco a fare ho messo l'inglese così almeno se anche voi avete l'inglese non avete problemi vedete questo ecco me vabbè inutile che vi faccio vedere vi dico metto questo pezzo qua che è il vertical gear box poi ci mettiamo il il niente ho già sbagliato perché io sono pirla e ci avete da fare devo preparare una nicchia per poterci mettere una di queste qui esatto perché dopo questo qui ci andrà qua ok questo serve a far muovere il meccanismo che dopo vi faccio vedere adesso vi metto un attimo un paletto qua oddio così vi faccio vedere come si muove qui si può fare c'era un modo poi adesso vabbè dopo vi dico con dell'acqua noi faremo muovere il tutto allora mettiamo un po' di cubi faccio l'andesita dietro non ho tanta roba però allora che io l'ho appena visto quindi è fatica anche spiegarlo perché non lo conosco bene quindi facciamo per adesso così e così e ci mettiamo l'acqua per farlo ruotare ok perfetto sembra che vada vedete si sta muovendo lentamente però sta muovendosi e quindi è già qualcosa ok poi una volta fatto questo allora poi il tipo adesso vogliamo questo ne metteva un altro sempre qua così continua a girare vedete e siamo a posto poi ci metteva un altro qua perfetto così vedete almeno vedete un po' come è fatto poi ci metteva l'encased fan ok che dovrebbe essere così alla rovescia ovviamente adesso abbiamo la French dovremmo poterla girare teoria ah l'ho tolto mi fa piacere ma porca vacca vabbè facciamo scusare mi viene da ridere allora sto cercando di spiegare ok l'ho rimesso come prima è stato proprio bravo ma porca vacca allora devo andare così continua ad essere così io non capisco dove stia sbagliando ok quindi no allora così è su e giù quindi così sto cercando di capire scusate ma eccolo ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta poi ci andrà un secchio d'acqua andiamo a prendere l'acqua così siamo a posto che è di fuori purtroppo non l'ho ancora fatta dentro scusatemi un piccolo lapcius un lapcius dormiamo che è meglio apri che è meglio non mi ricordo ho messo l'acqua che è andato a pescare mamma mia quanti creeper che brutta cosa ok ti ho prendo l'acqua ti ho avvio saluta mi sono stato molto piacevole andiamo pure qua poi mi serve una slab che adesso andrò a fare una slab eccoci qua perfetto vediamo un pochino speriamo di farlo adesso lo faccio vedere poi l'ho giusto perché l'ho fatto così alto per farvelo vedere ma in realtà lo possiamo fare molto più basso quindi andiamo a prendere mettere adesso così e non è il peggio innatico era questo così lo metto un attimo qua così a meno siamo a posto allora devo mettere l'acqua però va con la slab l'acqua quindi scusatemi se faccio sta cacata ma la devo fare un attimo vai perfetto vai così adesso qui ci mettiamo l'acqua ok adesso ci vanno due spazi quindi ci mettiamo qui così uno e due ok e adesso ovviamente io non so fare i conti e tutti lo sanno e quindi non è una novità ci allargiamo un attico ok prendete questa mondetta benissimo mettiamo un po' di lo user va che è meglio e qua ci mettiamo una bella scusatemi una bella slab così siamo a posto in teoria se ho capito bene e non ho fatto e ho detto una benita cacata dovrei buttare giù qua della roba più precisamente della gravel adesso noi la droppiamo mettiamo così e in teoria dovrebbe fare qualcosa spero dovrebbe trasformarla in teoria spero che sta facendo qualcosa esatto qualcosa sta facendo quindi vuol dire che comunque non ho detto una cacata vediamo un po' pieno pieno lui trasformerà 16 correnti di speed ok più pieno pieno trasformerà tutta questa roba qui in qualcosa di interessante adesso aspettiamo e vediamo un po' adesso ne ho messe tante potevo mettere anche di meno però insomma eccoci qua trasformato perfetto cosa abbiamo adesso? abbiamo l'iron nugget è della finta capite? abbiamo trasformato finalmente il tutto in una cor non so queste qui dopo cosa serviranno ma se lo spiegherà dopo mi informerò però adesso abbiamo finalmente modo di fare l'iron io si l'ho dato e io si l'ho dato sono contentissimo spero di essere spiegato bene adesso lo modificherò perché così mi piace per un cazzo devo cercare di mettere un modo più congegno insomma ah decisamente molto meglio così almeno diciamo che siamo messi un pochino meglio poi si potrà automatizzare ovviamente adesso lo faccio manualmente così ci facciamo un po' di ferro perché tanto io col ferro posso fare posso fare una volta fatti i lingotti la mia bella questa e tanti saluti al pifero è una bella salutata al pifero ce la do volentieri allora fatemi vedere intanto se con questa macchina che è questa qui si faceva anche con la lava quanto pare però noi abbiamo fatto con l'acqua se ne fa dieci tu sa esatto da qui si vedeva vedete quindi questo se ne facessi così vedo tutta la roba che si può fare ed è interessante la cassa di uranium si possono fare tante belle cose l'orange concrete con la red sand posso fare il gold ma che cosa carina e meravigliosa ma cosa mi dici mai è la red si fa smatulando red sand vediamo se la red sand posso farlo anche con questo è un macchinario normale questo mi sembra un po' astruso ma questo qui mi sembra più fattibile ma che cosa gradita e meravigliosa ragazzi proprio bello bello mi piace questo pack almeno finalmente certo mi devo informare perché anch'io non le conosco però dai che mi dispiace più di tanto beh ragazzi a dire che magari ci finiamo qua così vi faccio un po' di cose spero di essere stato abbastanza chiaro facendovelo vedere è meglio che spiegarlo perché spiegarlo a volte non è sufficiente e quindi con calma mettete il puzzle video vedete tanto ho fatto passo per passo l'abbiamo fatto insieme dopo l'ho modificato ma la modifica è sempre stata sempre quella l'ho solo abbassato di uno esattamente quello fatto abbassarlo di uno e quindi insomma sì quindi ragazzi come al solito vi invito lasciate anche un commento si piaccia sai farai sapere cosa pensate però aspetta un saluto a Shiba ciao 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 ciao